Una vera e propria serra di droga in casa, ma non solo, anche coltelli, scacciacani ed un taser. Così i carabinieri della compagnia di Bibiena hanno arrestato un uomo e denunciato un altro, accusati di concorso, indetenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto era partito da alcune segnalazioni di residenti, genitori per lo più di giovanissimi, che avevano notato movimenti sospetti ed un insolito via vai. Anche grazie a Batman, cane antidroga di sette anni, i militari ieri hanno individuato e sequestrato presso l'abitazione di un uomo residente a Bibiena circa 200 grammi tra marijuana ed hashish. Inoltre i carabinieri, sempre all'interno dell'abitazione, hanno scoperto anche una piccola serra domestica con quattro piante di marijuana, completa di impianto di illuminazione e erezione e diversi oggetti atti ad offendere. Riguardo al possesso sono in corso ulteriori accertamenti, tra questi un taser, vari coltelli, un manganello ed una pistola scacciacani priva del tappo rosso. I militari hanno così arrestato il proprietario di casa e denunciato a piede libero il giovane complice. Continuano adesso le indagini finalizzate a definire il circuito relazionale dei due e eccessioni a terzi delle sostanze stupefacenti.